L'ambasciatore Umberto Vattani, presidente di sviluppo Italia-Sicilia, ha fatto visita alla COSVAP questa mattina nella città di Mazzara del Vallo. Sentiamo l'intervista. Qual è il ruolo della Sicilia a livello anche ittico, come uscire dalla crisi e come valorizzare il nostro pescato? La Sicilia occupa questa posizione privilegiata nel Mediterraneo accanto a paesi con i quali ha da sempre intrattiene rapporti estremamente amichevoli di solidarietà. La Sicilia è di fronte alla Tunisia, alla Libia, al Marocco, all'Algeria ed è naturale che questi paesi guardino la Sicilia. Perché? Perché i siciliani sono degli eccellenti pescatori, ma non soltanto hanno sviluppato un'industria della pesca e un distretto della pesca qui a Mazzara del Vallo che è un gioiello, che è un esempio, direi quasi leggendario per molti, ma sono anche e hanno dimostrato di esserlo i nostri amici siciliani i più attenti alla conservazione delle risorse del mare, alla lotta contro l'inquinamento, a far sì che le specie delle varie possibilità naturali di pesca sopravvivano anche alle incursioni che non sono soltanto limitate ai pescatori del mare mediterraneo, dei paesi riveraschi, ma anche che vengono da fuori. E allora come non ammirare il lavoro fatto dal distretto della pesca? Nella mia qualità di segretario generale, quando ero segretario generale del Ministero degli Esteri e negli ultimi anni come presidente dell'Istituto per il Commercio con l'Estero ho fatto di tutto per far capire anche ai paesi non così vicini alla Sicilia ma che si trovano nel Mediterraneo orientale quanto vantaggio ci sarebbe stato per loro di stabilire rapporti con il distretto della pesca di Mazzara del Vallo. Abbiamo addirittura colto l'occasione di una grande esposizione universale che si è svolta in Giappone a Aichi nel 2005 per meglio far conoscere Mazzara del Vallo e abbiamo pensato di portare lì in Giappone, dove è stata esposta per quasi sei mesi, il satiro danzante, una delle più belle sculture esistenti al mondo e ritrovate proprio nei mari intorno alla Sicilia. Ebbene questa immagine così positiva di un eccellente esempio di come si può sfruttare le risorse del mare allo stesso tempo avviando rapporti di collaborazione, non di contrasto e di contenzioso, avviando nuove iniziative di pesca attraverso società miste, nostre tunisine, nostre marocchine, nostre egiziane e la migliore assicurazione per il futuro. Non soltanto per mantenere il mare che circonda quest'isola favolosa nelle condizioni migliori ma anche per dimostrare l'intelligenza, l'iniziativa e la capacità di imprenditorialità che i nostri pescatori, i nostri armatori hanno.